Sono apparse anche se incomplete intorno alle 8 del mattino, lasciando basiti i residenti usciti di casa per recarsi al lavoro. Nuove strisce bianche, questa volta in via Cattaro, quasi ad angolo con via Dalmazia, riducono ancora una volta il numero dei posti dedicati alle automobili. Sono infatti per le motociclette i nuovi stali realizzati nel quartiere Madonnella, un quartiere già carente di posti auto e oggetto più volte in passato di proteste da parte dei cittadini. Ed è proprio da quella parte di residenti contrari a questa novità che riceviamo la segnalazione. In tanti ci fanno notare come nel giro di pochi metri, tra via Dalmazia, via Spalato, Corso Sonnino e via Cattaro, esistono già diversi stalli dedicati agli amanti delle due ruote. Una zona in cui trovare parcheggio è quasi impossibile, si lamentano a microfoni spenti e loro che fanno ne eliminano sempre di più. A prendere in carico la questione Antonio Bozzo, neoeletto in consiglio comunale che già in passato si è battuto con il comitato di quartiere a causa della riduzione dei posti auto. Io credo che o tutto il pianeta Terra ha deciso di venire a parcheggiare la propria moto in questo punto di Madonnella, oppure chi ha istruito la pratica alla ripartizione non aveva ben chiara la mappatura di quelli che erano i posti già riservati al parcheggio delle moto, perché non ci sono altre spiegazioni. Questi posti qui su via Cattaro sono stati fatti non più tardi di qualche ora fa, ma lei già sta ricevendo la mente dei residenti? Sì, sì. Non smetto di avere il contatto con il territorio. Lo dicevo stamattina, io continuerò ad essere quello che ero fino a ieri, cioè un collettore di stanze del territorio. Grazie.